Oggi vediamo l'inaugurazione della Humor Collection di Panini con Paper Novela di Silvia Ziche, storia completa del 1996 in 24 episodi che qua viene riproposta in volume unico. Parodia della telenovela e della serialità in generale vede un cast variegato di Paperi alle prese con la febbre da piccolo schermo. La recitazione e l'espressività di questi personaggi rende impossibile non notare anche gli aspetti più tragicomici di questa vicenda, che ci fa riflettere anche sulle cose trasmesse al di fuori di Paperopoli. Ottimo il rapporto qualità-prezzo dell'edizione, che ci dice nell'editoriale, vedrà anche delle storie di Casti e almeno in questo volume prevede un'intervista all'autore. Io mi fermo qui perché ho l'ironia di una vecchia tuba sott'aceto, ma consiglio agli altri di tenere d'occhio questa pubblicazione. Prossimo numero? Novembre 2022. Se lo hai letto anche tu, fammi sapere com'è andata nei commenti.